E partiamo! 114esima corsa degli Asini a Fagania 2004, che tempi meravigliosi, ascolta, ascolta! Mi chiama con amore, Cesare! Ecco di Pradamano, Cesare! La svedese di Pradamano! La svedese che mangia la piadina! No, mangiava la frittella, Cesare! Vedi, ti sei fregato, povero! E tu che c'hai sempre con le frittelle? Stavolta ci sei cascata come un pero! Bene, andiamo qua e adesso andiamo da altri fans! Adesso tu vedrai che roba! Intanto devo saltare immediatamente! Guarda, guarda, guarda! Oh, vado a finire di nuovo su Gorizia! La F Magazine dicevano! Eccoli, adesso si chiama Gorizia TV, eh, amici? Sono goriziane queste? Queste no, sono di lì, di quei posti di... Guarda che gli dà tutto a lei, perché non vogliono farci vedere che bevono l'aranciatina! Ma in quell'epoca non c'era problemi! Quella volta si poteva, l'alcol test non c'era! Non c'era problemi, punti, le bevude, non c'era nessuno! Adesso invece siamo nell'era di crisi, guarda la dolcezza, la brasiliana di Fagania! Hai visto? Vanno un bel bacione! Eccola lì, adesso andiamo e vedrai che salutiamo... Oh, i bambini! La grande mamma! Gli ho detto, dove sei il Tom? Era in giro, Cesare! Bene, salutiamo sempre questi amici di Fagania! Tanti bambini, vediamo! Eccolo lì, guarda che roba! Ecco il mini esinello, titolo dei bambini! Ecco Lisa, che è diventata la geometra! Oh, guarda qua! Quello lì è l'indirizzo per andare lì, ascolta cosa gli dico! È per caso l'indirizzo quello lì! Eh? Ascolta, ascolta! Mi dica un po', senta, è l'indirizzo quello lì! Quale l'indirizzo? L'indirizzo della via, dove chi abita, no? Senti, fai un saluto agli amici di Bolle Ceremane, fai un saluto! Ciao! Ciao! C'era seduta su una sedia, dove c'era una scritta fresca, di pittura fresca! C'era scritto, lato B, la potenza del Brasil, Cesare! C'era scritto, pittura fresca, al contrario! Ecco, fammi salutare, l'ho detto, ha venduto? Sì, ho venduto! Oh, gloria! E saluto la Paola, la moglie di Alido! Salutalo, quello che ti batte sempre, Cesare! C'è questa domenica, tra l'altro, a Bertiolo! Ciao, Alido! Eccolo lì, Alido, che ti batte sempre! Sai perché? Perché c'ha una moglie potente, caro! Potente, bravo! Eh, li prepara le vitamine! Eh, sì, salutiamo sempre la banda di Fagania! E salutiamo Elisa, che adesso è geometra! Cesare, quella volta era una bambina! È andata in visione, il mio papà è diventato geometra lei! Eh, certo! Lei aveva 14 anni, oggi ce ne ha 20, è geometra e lavora! E mi mantientra poco! Eh, chissà! Vabbè, scherziamo! Salutiamo Elisa, saluto anche Gloria, che è diventata una signorina anche lei! Ehi, ecco qua! Ascolta, ascolta! Una volta, salata su Corizia, montagli lei! Vedi, vedi, vedi! Eravamo potentissimi, guarda! Eravamo, siamo ancora molto potenti, eh, Cesare! Però... Corre questa signora! Ecco qua! Salutiamo queste dolcezze! Che si ricordava delle tue telecamera! Certo, ascolta! Questa è di Fagania! Guarda la potenza di Fagania e i balconi di Fagania! Qua, ascolta! Io ho pagato! Adesso paga lei, perché dopo gli altri mangiano e lei paga, eh, Cesare! La pirata di Fagania! Eccolo lì! Adesso il vigile ci fa un saluto a tutti i nostri vigili, anche quelli di Mo Falcò! Ascolta, eh! Anche Mo Falcò! Sì, eh! Ci sono delle belle dolcezze, Mo Falcò! Oh, ascolta! Martignacco! Cesare, vada che dolcezza! Gli ho detto, sono tutti... Tutti i suoi questi! Mi fanno solo uno! Va bene! E noi andiamo a vivere a Martignacco! Ecco il suo, boys! Cesare, salutali lì! E viva la coppia di Martignacco! Guardali, Lio! E viva i Lions! Eccoli! Ed ecco gli chiedo adesso a questo se... Quando lo sposerà? Non si sa, forse si saranno sposati! Eh, nel frattempo si sono sposati, sicuro! Dopo sei anni, cosa dici? Ma io penso di sì! Eccoli, salutiamo i nostri fan! Salutali! Che ci guardano sempre! Furlan, Samanete! Oh là là! E via! Qui era il gioco dell'istruzione! E sai dove siamo adesso? Siamo sotto il tendone! A mangiare la polenta! Mi ha detto, ma come? Mi hai beccato proprio nel momento che non lavoro! Vai da qua! Era momenti super speciali! Con due bottiglie si festeggiava nel 2004! E oggi si festeggia con l'acqua minerale che la stanno aumentando in un modo pazzesco! Anche quella! E sai perché? Perché tutti bevono! Cesare, ma la potenza di Fagania! Adesso tu vedrai, dopo mi daranno tanto di mangiare che tu non ti rendi conto! Ah sì? Ecco la polenta! Quella che mi piace a me! Mi hanno riempito di polenta! Ed è formai, come si dice in Furlan! È formati! E da quella volta ha mangiato talmente il cibo friulano che ha imparato a parlare Furlan! Come ho sempre! Guarda come che lavora! Guarda quelle coste! Guarda le coste! Ma che ci frega! Le potolette! Ma va bene! Stai buono! Guarda che potenza! La potenza del Friuli! Eccolo lì! Sumo! Kumo! Ciacaris! Kumo! Eccola lì! Guarda come che va! Attenzione! Dentro lo mette anche Cesare che lo mettiamo a cucinare con tutti i suoi miliardi! Con i suoi miliardi è questo! Il DVD! Grazie! Eh, sa che deve dare qualcosa, no? Eh, mi parli sì! Eh, buono! Salutiamo sempre lui che assomiglia a qualcuno! Non te lo ricordi quello lì? Hai notato? No! Sì, assomiglia a quell'attore! E' l'attore che faceva... Ecco, guarda quanto è che mi ha andato Cesare! Non so più cosa fare! Attenzione! Io sono arrivato a quarta! Assomiglia a Luca Barbareschi! Bravo Cesare! E dopo parleremo... Guarda! Quarta con i toglie! Speriamo che non è bastone! Invece è andato a prendere il... Signora, una coppa per me e per la mia corsa podistica! Ecco il papà! Ecco il papà di Francesco Giuseppe e da Nilsen di Fagania, Cesare! Eccoli lì! E allora salutiamo Barbareschi! Mi raccomando! Ha fatto una promessa! Alla fine non ci hanno chiamati! E... 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 E siamo in sospeso, Cesare! Punto di domanda, Cesare! Vai! Ci salutiamo sempre il grande sindaco di Fagania, però! Perché col sindaco... E' stato nuovamente sindaco! Sempre! Ti ha sempre chiamato! Eccolo qua Barbareschi di Fagania! Il Barbareschi di Fagania! Eeeh! La mia siora che la portava... Ecco la potenza delle potenze! Guarda lì Fagania! Ecco! Arrivata la polenta! Guarda come che se viaggia Cesare! Ascolta il grido dei... Robi! Ascoltalo! Con i miei congiuntivi! Con tutti i miei sistemi! Vi faccio un bel saluto! Anche Cesare sbaglia ogni tanto! Vai! Ascoltalo!